Applicazione Cleanser Bagnare la cute e i capelli massaggiando Applicare Cleanser, un'erogazione del dosatore, direttamente su cute e capelli, sui 5 punti della testa, nuca, vertice, fronte e parietale Posizionare entrambe le mani con le dita larghe sulla fronte e praticare movimenti rotatori esterni seguendo le attaccature dei capelli fino alla nuca e risalire centralmente fino alla fronte, senza mai staccare le mani dalla testa Tempo di posa 3-4 minuti di massaggio Applicazione Scalp Revitalizer Conditioner Erogare sul dorso della mano Scalp Revitalizer Conditioner Distribuire usando il dito indice direttamente sulla cute, creando 5 divisioni dei capelli dalla fronte verso la nuca Terminata la distribuzione sulla cute, applicarlo sui capelli Intensive Treatment Deep Repair Hair Mask Applicazione Usare secondo la necessità Dopo lo shampoo distribuire uniformemente su lunghezze e punte Lasciare agire per 2-5 minuti per uso quotidiano, 10 minuti per un'azione più intensa Risciacquare bene Applicazione Scalp Treatment Creando 8 punti in circonferenza dalla fronte verso la nuca intorno al vertice Applicare per ogni punto una dose di Scalp Treatment e distribuirlo con il dito indice verso il vertice Eseguire un leggero massaggio per distribuire bene sulla cute Procedere allo styling desiderato Procedere allo